Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, come anticipato adesso la politica. Momenti di alta tensione nel Partito Democratico di Vittoria. L'assessore alla trasparenza, Piero Gurrieri, e il segretario Salvatore Di Falco non se le sono mandate a dire. Il segretario ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Gurrieri, reo a suo giudizio di continue esternazioni che danneggerebbero il partito. Ma Gurrieri difende il suo operato e lancia precise accuse. Scarsa concertazione nelle scelte e poca trasparenza in alcuni atti amministrativi. Sentiamo. Fulmini e 7 nel Partito Democratico di Vittoria. L'assessore alla trasparenza, Piero Gurrieri, e il segretario cittadino Salvatore Di Falco sono ai ferri corti. La segreteria ha chiesto anche le dimissioni dall'aggiunta di Gurrieri, ma quest'ultimo è deciso ad andare avanti nel suo lavoro, fin quando non sarà il sindaco a delegittimarlo. Alla base del dissidio pare ci siano le continue esternazioni a mezzo stampa e nei social network da parte dell'assessore che ha sempre pungolato il suo partito per una maggiore apertura e maggiore concertazione nelle scelte. È giusto che lasci il proprio incarico chi non ha fatto del proprio meglio, che ha pensato ad altro, chi non è stato leale, sostiene Gurrieri. Se si tratta di un uomo delle istituzioni, chi non ha servito la propria comunità o chi ha tradito i principi impressi nella Costituzione, è il proprio mandato, chi non è stato accanto ai cittadini, che ha pensato ed ha orientato la propria azione in nome di interessi personali particolari o di gruppi. Chissà a chi si riferisce l'assessore Ipparino. L'impressione è che all'interno del Partito Democratico già ci sia qualcuno che inizia a guardare al doponicosia e aspira alla poltrona di primo cittadino. Forse è per timore che il gruppo dell'area Renzi possa avanzare qualche richiesta in merito. Ecco che allora c'è chi ha pensato di spezzare leali agli esponenti renziali che sgomitano per avere un po' di spazio. Lo stesso Gurrieri spesso è stato poco considerato dai propri compagni di partito. L'esempio calzante riguarda quanto avvenuto quattro anni fa durante le elezioni regionali. Gurrieri era candidato ma a vittoria c'è chi raccoglieva voti per Roberto Ammatuna e chi per Giuseppe Di Giacomo e l'esponente locale è stato abbandonato a se stesso. Nell'ultima campagna elettorale l'attuale assessore e tutto il suo gruppo, secondo fonti a lui vicine, hanno sostenuto invece lealmente Fabio Nicosia, candidato nella lista Crocetta, non ricambiando dunque la scortesia. Insomma il PD di vittoria e la maggioranza rischiano di perdere altri pezzi importanti. D'altronde chi semina vento raccoglie tempesta e nel circolo Ipparino le previsioni danno bufere e cicloni. E la crisi in seno al PD di vittoria segue di pochi giorni quella vissuta nel PD di Ragusa. Insomma un PD che è a naspa e che pare stia implodendo sotto il peso dei suoi stessi esponenti. Ma cosa c'è dietro? Partito Democratico in crisi? È la domanda che sorge spontanea dopo quanto vissuto dal partito negli ultimi giorni. Dopo infatti la crisi del PD ragusano, rientrata a pare solo apparentemente, si aggiunge adesso quella del partito vittoriese. Come se dunque l'usanza di lavarsi i panni in pubblico, come noi l'avevamo definita, stesse accomunando tutti i circoli cittadini. Se infatti quella ragusana sembrava essere una difficoltà legata ad esponenti marginali, chiamiamoli così come Valentina Spata, o da frange un po' in decadenza politica come Gianni Battaglia e suoi vicini, a vittoria a scontrarsi sono uno degli assessori più attivi e presenti sul panorama amministrativo, Piero Gurrieri, e il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco. Insomma, altro che malumori minori, nel PD pare che il filo d'unione si sia spezzato, che la meta finale si sia persa, insomma che il partito si stia sgretolando sotto il peso dei suoi stessi esponenti. Stranisce a questo punto il silenzio e l'immobilismo, almeno finora, della segreteria provinciale. Nessun tentativo infatti di fare rientrare i malumori, o meglio di risolverli all'interno piuttosto che spiattellarli in piazza. Perché? La crisi dei circoli nasconde forse quella della segreteria provinciale, o si tratta semplicemente di un immobilismo tattico, in attesa che i tori si scornino da soli, secondo la vecchia regola delle dividi e timpera? Ci spostiamo nuovamente a Vittorio, dove il Comitato di Cittadini di Piazza Daniele Manin è intervenuto nuovamente dopo il Consiglio Comunale andato a vuoto, che doveva affrontare la questione emergenza ordine pubblica nel quartiere. Delusione e amarezza per l'atteggiamento di molti consiglieri comunali. Il Comitato di Cittadini di Piazza Manin vuole risposte. Dopo l'incontro avuto con il Sindaco e il Consiglio Comunale andato a vuoto, l'emergenza ordine pubblico rimane, anche se fanno sapere dal Comitato. L'amministrazione si è impegnata a emanare un'ordinanza per riportare l'ordine pubblico nel quartiere, dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti, aggressione a danno di cittadini, spaccio e furti. Il Comitato però adesso vuole i fatti ed ha chiesto un altro incontro. A ricevere una delegazione di residenti, anche il comandante della Polizia Municipale, che ha garantito una maggiore presenza più incisiva e costante nei pressi della piazza e nella ricerca di una sinergia comune con le forze di polizia, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità presenti nel quartiere. Delusione e amarezza, invece, per gli esiti del Consiglio Comunale. Dal confronto, nato in sede consigliare a cui abbiamo assistito, scrive in una nota il Comitato, è nata una faida tra i vari gruppi presenti che, come ormai siamo abituati a osservare, non ha portato a nulla di concreto. In particolare, prosegue la nota, gruppi consigliari del PD, SELE e Movimento Democratico Territoriale hanno presentato un emendamento al documento, oggetto di discussione in successiva votazione, che aveva il preciso fine di snaturare l'oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio stesso. L'emendamento, infatti, trattava di argomentazioni estranee alla discussione, come la dispersione scolastica, le problematiche di piazza del popolo e così via. Il Comitato scrive anche che il consigliere di sviluppo eblea Andrea Larosa avrebbe dichiarato l'intenzione di votare contro il documento. Questa presa di posizione ha causato il ritiro dell'ordine del giorno presentato e la mancata votazione del documento. Dunque, il Comitato è deluso per l'atteggiamento di gran parte del Consiglio Comunale, che ha dimostrato poca attenzione ai problemi di una comunità e allo stesso tempo ha sprecato un'ulteriore occasione di confronto civile agli occhi del Paese. E ancora raccolta di abiti usati nel primo piano. Dopo Comiso i volantini sono infatti riapparsi a Ragusa, ma anche qui, come a Comiso, nessuno è passato a raccogliere i sacchi. Raccolta di abiti usati dopo settimane di silenzio, giusto il tempo di trascorrere il periodo natalizio in tranquillità, ed ecco che anche a Ragusa, dopo Comiso, riappaiono i volantini che pubblicizzano il ritiro di abiti e quant'altro. Si tratta, come potete vedere, dello stesso volantino apparso qualche settimana fa, sempre nello stesso quartiere. Siamo in via Santissimo Salvatore, zona via Marianina Schinina. Dunque stessa zona, stesso volantino e stessa disponibilità della gente, che nonostante i nostri continui appelli sulla poco chiara natura di questa iniziativa, continuano, come vedete, a preparare con cura i sacchi, pieni di vestiti e allora stabilita, in questo caso le 8 di mattina, a lasciarli fuori dai portoni d'ingresso. Peccato però che stamattina, almeno fino alle 9.30, nessuno sia passato a ritirare la merce, diciamo così. I sacchi sono infatti rimasti incustoditi davanti ai portoni. Dunque a Ragusa, come qualche giorno fa a Comiso, nessuno ha effettuato la raccolta, almeno all'orario stabilito. Perché? Che i promotori dell'iniziativa, lo ripetiamo poco chiara, abbiano fiutato di essere controllati, che il fatto di non rispettare l'orario di raccolta sia un tentativo magari di depistare eventuali indagini e soprattutto sviare sguardi indiscreti. Noi restiamo vigili e attenti e lanciamo un appello anche a voi telespettatori di segnalare a noi o alle forze dell'ordine ogni possibile informazione che possa, una volta per tutte, fare chiarezza sulla vicenda. E ci occupiamo adesso dell'Università Ragusa. Importanti notizie arrivano da parte del commissario straordinario della provincia Giovanni Scarso. Sentiamo. La provincia di Ragusa ha formalizzato la proposta all'Università di Catania per chiudere l'accordo transattivo e quanto dichiarato dal Palazzo di Viale del Fante, questa è in sintesi la proposta rateizzazione del debito con Università Etnea in 15 anni con un impegno annuo per provincia e comune di Ragusa. Novità in vista dunque sulla questione Università Ibla. La nostra proposta, dichiara il commissario Scarso, non segue quella del comune di Ragusa ed è stata trasmessa al Rettore dell'Università di Catania, al Presidente del Consorzio Universitario di Ragusa, ma ci sono due condizioni poste all'Ateneo Catanese. La prima è relativa alla rivalutazione della somma che va effettuata a Monte ed ha avuto riguardo alla percentuale di rivalutazione pari all'1,50%, l'altra invece è relativa alla quota parte di tasse che l'Università si è impegnata a restituire nella misura del 70%, che potrà essere compensata sulle quote debitorie da parte degli enti locali Iblei solo a partire dal 2024, ovvero per le ultime quattro rate. Tale quota parte, chiariscono dalla provincia, non può però trovare un diverso calcolo rispetto alla previsione effettuata nella transazione del 2010. La somma complessiva debende in 15 anni all'Università di Catania, concludono, ammonta a 10.510.502 euro da pagarsi in 30 rate semestrali di oltre 360.000 euro. E ci occupiamo adesso del MUOS di Niscemi dopo gli incidenti accaduti nella notte tra giovedì e venerdì. Il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta e l'Assessore al territorio Lo Bello hanno annunciato importanti novità per il blocco dei lavori. I siciliani sappiano che il Governo siciliano non farà alcuno sconto sulla salute dei cittadini e nel giro di qualche giorno il provvedimento di sospensione dei lavori della messa in mora dell'esercizio dell'impianto MUOS sarà emanato. Con queste parole, il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta interviene sulla questione MUOS dopo gli incidenti avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì tra i partecipanti al presidio permanente le forze dell'ordine. Gli scontri sono scoppiati dopo che i manifestanti hanno impedito il passaggio del convoglio che trasportava la GRU. Da quanto riferiscono gli attivisti in OMUOS, decine di loro si sono sdraiate lungo la strada ma sono state affrontate dalle centinaia di poliziotti e carabinieri nel tentativo di liberare la carreggiata. Alla fine però le forze dell'ordine hanno avuto la meglio assicurando il passaggio del convoglio. Rammarico per quanto accaduto è stato espresso dal Governatore e dall'assessore al territorio ambiente Mariella Lobello. Il Governo regionale si legge in una nota emmiata da Palermo trova veramente singolare che si sia accelerata improvvisamente la procedura per il completamento del MUOS in una fase in cui sta acquisendo la documentazione necessaria alla sospensione dei lavori in conformità alla mozione votata dall'ARS e alla necessità di introdurre nel territorio una strumentazione adeguata al controllo delle emissioni per proteggere la popolazione. A nulla, dichiara Crocetta, servono forzature di stampo autoritario per imporre alla Sicilia strumenti che potrebbero essere collocati in aree più idonee. E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito fritvonline1.it vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.